Hai iniziato a dire faccio lezioni di arabo, in inglese e in italiano e le metto online. Qual è stato il punto di partenza? Innanzitutto mi sono laureata dall'Università di Pisa in lingue e letterature straniere e ho voluto vedere come va questo insegnamento online, come mi possono vedere i miei studenti quando insegno tramite una webcam e un microfono. Ora, in America ha avuto tantissimo successo, perché in America va tanto di moda e-learning, tantissimi bambini per esempio non vanno più a scuola ma studiano da casa tramite webcam con le loro maestre. Anche io ho voluto fare questo, infatti ho iniziato ad insegnare arabo ai americani in lingua inglese, non solo agli americani però per tutto il mondo in lingua inglese, così mi capiscono. Ho avuto tantissimi anche visiti dall'Italia, di gente che purtroppo non sa l'inglese ma hanno chiesto anche di fare queste lezioni in italiano e li sto facendo tantissimo. E comincia, peraltro, la sentite parlare così ma su uno dei video iniziali nel periodo di Natale quando sei partita hai fatto una milionata di contatti, cioè hai fatto più contatti di SkyTG24 e quindi devo dire un impulso forte. Ma in quel caso, secondo te, perché hai avuto così tanta visibilità? Per il periodo natalizio? Prima di tutto sì, era il periodo di Natale. Io ho insegnato un video dove come si dice Buon Natale in arabo. Ha suscitato tantissimi belli commenti di gente che non sapeva che si festeggia il Natale nel mondo arabo pensando che tutti gli arabi sono musulmani, però c'è una piccola percentuale che sono cristiani e ha avuto tantissimo successo prima per il periodo di Natale e poi anche perché è interessante sapere che ci sono gente arabi che festeggiano il Natale. Poi sei anche molto brava a divulgare in un modo piacevole qualcosa che magari è visto come difficile. Come si produce un video? Cioè che cosa fai? Ti metti lì? Come fai a produrre il video? Come lo carichi? Dacci qualche trucco. Prima penso di cosa voglio dire nel video, la lezione nella mia mente, cosa voglio preparare, anche preparo un po' di appunti. Poi basta una webcam, io uso per ora una webcam, una webcam, un po' di luce, un po' da qui, un po' da qui per non essere proprio la luce davanti a te. E' questo il mio video. L'importante è il contenuto, l'importante è quello che dici. E' finito il video? Cosa fai? Fai un montaggio? Lo metti su così? Come funziona? Dipende da se è un video dove io spiego la grammatica, devo montarlo, devo salvarlo, poi montarlo, mettere tutte le cose in diversi colori, perché devo proprio spiegare come una maestra a scuola con la lavagna. Con le grafiche e tutto quanto. Sì, sì. E mi serve un programma per edit, per l'edit. Movie maker, insomma programmi anche fribili. YouTube premia le persone originali che danno del materiale solo da loro stessi, non copiato. Ci premia con il partnership, l'essere partner di YouTube. Siate originali, qualcuno sicuramente avrà qualcosa da insegnare. Io non sono molto brava in geografia, ma sono molto brava in lingue e insieme a quello che so. Siate originali.